È un antico albero che sfoggia la sua bellezza nella villa comunale, il suo nome è Ficus Macrofilla, che ha 80 anni e che impone in questo polmone verde della città la sua venustà. L'albero di quasi 15 metri di altezza è stato dichiarato per decreto, albero monumentale dal Dipartimento Tutel Ambiente della Regione Calabria per il suo valore storico e culturale. È, proprio presso la villa comunale, è stata apposta la targa al Ficus Macrofilla, presente all'interno della struttura, nell'ambito della Festa Nazionale del Verde. La pianta è in grado di svilupparsi in modo molto ampio, non solo in altezza, ma anche in larghezza. Questa targa riconosce la monumentalità di questo bellissimo esemplare presente nella villa comunale, quindi è l'unico albero monumentale presente in città, riconosciuto sulla base di un'istanza che avevamo proposto quasi due anni fa. Il decreto è risalente più o meno a qualche mese successivo e adesso c'è stata formalmente donata, insomma la targa da parte degli organismi competenti che quindi oggi scopriamo in occasione della Festa Nazionale degli Alberi che è oggi per l'appunto. Secondo lei quale può essere lo scopo all'ora di questa targa? Sicuramente quella di, in molte città d'Italia, gli alberi monumentali costituiscono dei veri e propri attrattori turistici. Questa era la finalità, cioè esserci accorti appunto della presenza, non che prima non ce ne fossi accorti, però questo riconoscimento formale dà importanza corretta a questo bellissimo esemplare che quindi oggi potrà essere valorizzato e perché no diventare anche un attrattore turistico. Ci piaceva farlo in occasione proprio di questa giornata nazionale degli alberi, proprio per il valore rappresentativo che questo appunto rappresenta. Festa dell'albero e questi tre giorni di lega ambiente in cui si parla di verde, ma come il Comune di Crotone vorrà nel 2024 curare il verde pubblico? Cosa bisogna fare? Allora, noi qui stiamo mettendo in campo una serie di azioni, per la verità non che prima non ci fosse questa attenzione, però adesso è un anno di svolta. Il 2024 sarà un anno in cui rispetto al passato potremo concretamente implementare il patrimonio arborio attraverso la possibilità di distanziare importanti risorse economiche che vanno in questa direzione. Già 100.000 euro sulla programmazione 2023, altri 50 stanziati sulla programmazione 2024. Stiamo impegnando proprio in queste ore le risorse per un concreto rimboschimento proprio della città in molte aree che ne sono risultate prive, perché per la serie di alberi secchi che ci sono, per la previsione di nuove aree, quindi andiamo in questa direzione. Questi tre giorni abbiamo voluto iniziare a spiegare questo percorso e quindi proseguiremo in questa direzione. Anche oggi nella Villa Comunale piantiamo due esemplari di una certa grandezza proprio per rappresentare questo nuovo corso che stiamo mettendo in campo.